Salve amici! Come vedete adesso la mia fidanzata sta molto meglio di prima. Perché? Prima perché stava male, perché aveva un po' girato la testa, perché giocava troppo, correva troppo, cadeva troppo e la sua testa si batteva, quindi la sua testa gli fa molto male. Adesso deve soltanto riposarsi. Ma lei è guarita, però è davvero questo. La veterinaria adesso vi dice come stava. Aveva la testa un po' caldina, ma non faceva caldo come il sole che vi fa sudare. No, caldino, un po' freddino, un po' caldino. Quindi vediamo adesso quando, dopo che ha riposato cinque minuti, vediamo come sta. Sono la signora coniglio, salve! Sono tutta stress! Si dice stress. Relaxata! Si dice relaxata. Oh, ma smettila signora coniglio, così fai ridere tutti. O forse al coniglio fai ridere. Ai bambini piccoli potrete vederlo. Oh, guardate cosa c'è là. Un telefonino! Di chi sarà questo telefono? Mio! È tutto mio! Io che avevo telefonato... Volevo dire... Signor coniglio aveva telefonato a me e io che parlavo in quel telefono. È tutto mio quel telefono. Sono sicura che avete visto qualcuno mentre parlava coniglietto e la signora dottoressa. Ciao!